Ciao a tutti, io sono il D-Landogofilo, come state? Spero bene, per me questo è un periodo positivo al netto dei video su YouTube che ormai scarsi di giorno perché ho poco tempo di farli, comunque ieri mi è arrivato lo stipendio su contento, oggi vado al bar e mi dicono che sono più grosso, sono più contento, c'era una persona che non mi vedeva da un po' di tempo e in più è uscito anche in edicola il D-Landog numero 396. Però attenzione, qui sono meno contento, perché? Perché nel momento in cui sono andato a porgere la mia banconota da 5 euro all'edicolante, questa volta mi sono ritrovato in mano proprio le monetine, ormai non ti rimane più nulla, ormai D-Landog costa tantissimo, una volta aveva un prezzo abbastanza abbordabile, adesso da fumetto popolare è diventato fumetto di nicchia, quindi il prezzo è alto, insomma non mi rimane in tasca più niente ogni volta che vado a comprare un D-Landog. Vabbè, per me non è un grandissimo problema, ve l'avevo già proposto questo ragionamento in un video precedente, probabilmente nelle prime impressioni di un altro D-Landog mensile, ma penso a voi, per voi potrebbe essere un problema perché so che alcuni di voi, soprattutto nel gruppo chat di Telegram, l'ho scoperto da lì, aggiungetevi al gruppo link qua sotto in descrizione se non ci siete ancora, perché mi avete detto che seguite anche più testate, non è che voi leggete solo D-Landog come me, che principalmente mi focalizzo su questo, so che alcuni di voi leggono anche manga, altri fumetti anche della Marvel, DC, cose del genere, quindi 3,90€ di qua, 5€ di là, 3€ di là, insomma a fine mese sono spese un po' importanti, quindi boh, va così. Prima di iniziare da qui, quarta copertina, vedo il nuovo D-Landog, il nuovo capitolo di D-Landog, il pianeta dei morti, che uscirà il 27 settembre. La saga del pianeta dei morti mi è sempre piaciuta tantissimo, l'idea di Belotta l'ho sempre reputata eccezionale, però sta andando avanti da troppo tempo, da quant'è che prosegue la saga del pianeta dei morti? Dal 2000 e... boh, non lo dico prima che dopo mi insultate nei commenti, ah D-Landog, l'hai sbagliato la data, però so che da tanti, tanti, tanti anni, forse 2011, 12, 13, non lo so, comunque da tanti anni che prosegue questa saga, Ogni episodio viene lanciato a cadenza annuale ed è questo forse un po' il perno che andrebbe cambiato, perché a distanza di un anno, non mi ricordo più cos'è successo nell'episodio precedente, perdi un po' quell'entusiasmo di lettura e la saga del pianeta dei morti negli ultimi due episodi è andata un po' ad appiattirsi. Sì, mi erano comunque piaciuti, ma non è più brillante come un tempo, vedremo con questo nuovo episodio se questa serie riuscirà un attimino a rialzarsi, copertina comunque veramente molto molto bella. Ma parliamo del 396 dopo tre minuti di video, finalmente ci focalizziamo sull'oggetto in questione, Allora, qui il logo ha un colore molto acceso, molto pastello, anche qui vedete la colorazione della copertina è forse la cosa che convince e non convince, perché da un lato è tutto molto chiaro, molto lucido, i colori saltano subito all'occhio, dall'altro lato mi sembra come in paint, Avete presente, per chi è del 90, che per chi fosse del 90, impariamo a destreggiarci bene con la lingua italiana, per chi fosse del 95 come me, o comunque super giù, nato più o meno in quegli anni lì, vi ricordate i primi paint per Windows 95 e Windows 98, proprio mi sembra qua un riempimento, pack, 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 quindi senza particolari cure nelle sfumature, che comunque ci sarà stata, perché Gigi Cavenago, che è un artista incredibile, non è che va lì a fare i suoi lavori così tricaballac, cioè penso ci metta della cura anche abbastanza importante, però questo effetto finale a me personalmente non piace, sembra un riempimento troppo a pastello, senza particolari venature, sfumature, insomma la colorazione non mi è piaciuta. Il disegno ne ha anche perché, guardate qua, tutte queste mani molto quadrate, sembra quasi un dipinto particolare, non dico di Picasso, perché adesso qua non stiamo a fare paragoni non necessari, però intendo, vedete queste forme particolari tutte squadrate, ecco, mi sembra una cosa un po' particolare, questo particolare a me non è piaciuto tantissimo, anzi non mi è piaciuta, c'è una copertina che non mi piace, oh, deve piacermi tutto in questo mondo, no? Quindi copertina bocciata questa volta, pazienza, però la vedremo meglio in sede di recensione, ve la farò vedere più da vicino, anche perché qua mi sembra un po' scuro questo video, non lo so. 397 Morbo B, va bene, parleremo il prossimo mese. Allora, testa e sceneggiatura di Hacker. Hacker? Mai sentito? Vedete come sono esperto nel mondo dei fumetti? Aiuto, dovrei farmi un po' di cultura generale, questa è l'unica mia lacuna, penso. Io, a dir la verità, sono appassionato di Dilan Dog, quindi tutto quello che ruota intorno al mondo del fumetto internazionale non ne sono troppo informato, anche perché non mi interessa, io mi focalizzo sempre su questo prodotto e basta, però dovrei farmi un po' di cultura generale sul fumetto, perché, insomma, ci vuole. Comunque, Giovanni Hacker, i disegni di Luigi Siniscalchi, Siniscalchi è da tanto che non lo sentivo sulle pagine di Dilan Dog. Adesso sto guardando tutto io, tranquilli che adesso vi giro qualcosina. Questi disegni non mi entusiasmano, sembrano un po' dei disegni in stile Luigi Piccato, ma un attimino più precisi, un attimino più curati. Ecco, mi sembra un piccato con qualche dettaglio in più, quindi no, non lo so. Così a prima vista non convince, però mi sembrano disegni molto completi, molto completi, nel senso che c'è in ogni vignetta qua, girando, c'è uno sfondo ben preciso, personaggi ben precisi, mi sembra tutto dettagliato, ecco, dallo sfondo alla posizione dei personaggi, mi dà proprio l'idea di un ambiente ricco e vivo, quindi questa cosa può piacere. Anche qui questa vignetta, che siamo però già nella tavola 75, meglio andare un po' indietro, neanche io l'ho ancora letto, quindi neanche io voglio essere spoilerato. Preghiamo qua, ecco, ad esempio questa vignetta, mi sembra un ambiente molto, molto reale. Ecco, mi sembra proprio di essere all'interno, quasi di percepire anche l'aria, l'atmosfera, eventualmente gli odori delle piante. Insomma, è difficile da spiegare, quindi, bene, sono dei disegni che riescono a creare emozioni, questo è l'importante, riescono a comunicarci qualcosa. Possono essere anche non bellissimi dal punto di vista proprio del tratto, anche se a grandi linee sono comunque molto buoni. Dai, ci siamo capiti anche qua, cioè, guardate anche qui. È difficile trovare degli ambienti recreati così pieni, proprio avvolti veramente da un'atmosfera particolare. Sembra quasi di andare nella casa di vostra nonna, no? Dove ci sono tante cose ammassate, poi non è il mio caso, per fortuna, però, cioè, prendete la classica, il classico stereotipo della casa della nonna, no? Che andate lì, tutte cose ammassate, con quella luce che penetra dalla finestra e fa tutta un'atmosfera strana, insomma, ci siamo capiti. Da un po' un'atmosfera da film, molto, molto calda anche. Bene, direi di chiudere qua, sui testi, non posso dirvi niente perché non posso leggere al volo e con la vista di Superman e dirvi cosa c'è scritto, ne parleremo in sede di recensione. Per adesso, prime impressioni, boh, sì e no, copertina no, disegni sì, storia, vedremo. Vediamo un po' cosa ci scrive Roberto Recchioni, perché, in effetti, in sede di recensione, non vado mai a leggere qua, perché il 70% delle volte o Roberto Recchioni non scrive niente di interessante o parla a vanvera. Ci sono delle poche volte, invece, in cui dice cose molto interessanti e ci spiega qualcosa di interessante. Quindi, video in pausa sull'iPhone, non so come si fa a mettere, perché questo video lo sto registrando dall'iPhone. Quindi, leggo al volo, attendete tipo 20 secondi, poi vi dico se c'è scritto qualcosa di interessante. Non ho voglia di montare il video, state calmi, aspettate 20 secondi, nel frattempo mangiate una mela, andate in bagno e fate quello che dovete fare. Ah, qui sempre il solito rassunto di sta meteora che cade. Ormai questo tagliandino qua, Recchioni lo copio e incolla da mesi e mesi a questa parte e alla fine non ci dice niente, c'è la meteora che cade, Londra nel caos e Dylan sta cercando di scongiurare una catastrofe, Gracia è coinvolto con i piani malvagi di John Ghost, boh, solite cose. Qui, citazioni. Visto l'ultimo tagliandino, forse potrebbe essere lo spunto di riflessione di qualcosa. No, beh, un insieme di citazioni come al solito, diciamo qua, Dylan Dog Horror Club noioso come lo è da qualche tempo a questa parte, quindi non ci siamo persi niente. Una volta Dylan Dog Horror Club era più bello, perché comunque conteneva anche lettere da parte di fan di Dylan Dog, conteneva un attimo di riflessioni anche sul sociale, sull'attualità, oggi non lo so, questa pagina qua si potrebbe anche prendere, strappare via, che nessuno ne sentirebbe la mancanza, ma fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate invece voi di questi spazi dedicati al loro club gestiti da Roberto Recchioni, a me non interessano, salvo rare eccezioni. Vediamo solamente qui un'estate da incubo in libreria, arriva... aiuto, no, devo capire come non spoilerare, prendo il volantino del supermercato con le offerte del prosciutto cotto e dell'insalata, lo metto qua. Guardate qui, ancora l'ultima fermata di incubo proposta in libreria, una storia che non mi era piaciuta, avevo fatto la recensione qua sul canale e forse avevo anche abbandonato la lettura dell'albo a tre quarti, perché era veramente di una noiosità incredibile, non so neanche se esista questa parola in lingua italiana, in tal caso se non esista avrò coniato un nuovo termine. Perché Dylan Dog? Sì, va bene, ma Martin Mister gestito da Castelli, che è quello che l'ha inventato, è noioso. A me Martin Mister non è mai piaciuto. E qua Ananga con Mr. No in libreria anche lui. Questo non l'ho letto, dovrebbe essere un interessante crossover, ma mischiare Dylan Dog, che è un personaggio nato moderno, già negli anni Ottanta era nato moderno, a mischiarlo con personaggi classicissimi, con l'impronta classica del mondo di Bonelli, secondo me cozza un po', cioè non ci entra troppo, logicamente. Nella stessa casa editrice si cerca di far collaborare questi personaggi, ma anche Dylan Dog con Morgan Lost. Anche Morgan Lost è nato da Chiaverotti un attimino più pimpante, così un attimino più fresh, ma anche lì con Dylan Dog, come vedete non sono neanche andato avanti a comprarli, questi Dylan Dog e Morgan Lost, perché non mi sono piaciuti. Quindi, insomma, tutti questi mischiamenti, miscugli tra personaggi di Casa Bonelli, ad alcuni di voi possono piacere, e anche tanto, perché se a voi piace Tex, Tex non ha ancora fatto un crossover con Dylan Dog, mi pare. Se vi piace Tex, Mr. No, comunque tutti i classici di Bonelli, è bello vederli collaborare tra di loro, per me che sono più legato al Dylan Dog stand alone, proprio per conto suo, a me personalmente questi crossover non mi piacciono, non penso che li andrò a comprare in libreria. Bene, fine della mia dislessia, fine di questo video, noi ci vediamo in un prossimo video dedicato al mondo degli indagatori dell'incubo. Non disperatevi se non trovate sul canale le recensioni del Dylan Dog Colorfest, quello con protagonista Graucio, perché le storie le ho lette tutte. Non so se avrò tempo di fare le altre due recensioni delle altre due storie che mancano, spero di sì, perché voglio spiegarvele molto bene, perché mi sono piaciute tanto. In ogni caso, andate a comprarlo, perché si è rivelato un album molto molto bello. Non compratelo se invece avete già acquistato il volume Graucio, Comicon o qualcosa del genere, perché le storie contenute all'interno del Colorfest, come vi ho già anticipato in quel video lì, sono storie ristampate da un'altra testata che era stata proposta ad una fiera del fumetto in edizione speciale. Quindi se disponete già di quelle storie, è inutile, non ha senso ricomprare il Colorfest con una ristampa. Se invece non avete quelle storie lì, andate a comprarlo, perché ne vale la pena. Ciao!